What's up Ben ritrovati del vostro Andrelink91 ancora una volta con un altro speciale Pasqualizio Si dice Pasqualizio? Non lo so io Pasqua non l'ho mai festeggiata quindi non so come si dice qual è l'usanza quale cosa è Però diciamo speciale di Pasqua comunque sia perché oltre le due uova che vi ho portato due settimane fa credo ne ho altri due Sono andato a fare spesa e ho trovato quelle dei Pokémon ce n'erano due erano una Pok e una Litten Brawlett non c'era se no prendevo pure quella E per quello che costano sinceramente ne valeva anche la pena poi i Pokémon il mio brand preferito comunque sia Da sempre da quando li ho scoperti nel 2001 io li ho scoperti l'anime nel 2001 ma il videogioco nel 2000 ed era Pokémon rosso Perché nel 2001 è uscito Aureo e Argento ho conosciuto diciamo che ho scoperto il videogioco Pokémon rosso nel 2000 Però ho iniziato a giocare nel 2001 insieme a Aureo e Argento ma ciancio alle bande iniziamo con l'apertura delle uova Io inizierei da Popplio perché comunque sia si sa Popplio best starter ma Litten è fuoco, fuoco è il mio tipo preferito quindi non si discute L'uovo è rotto quindi boh cercando di non far cadere nulla Ecco va tutto fracassato poverino Vediamo la sorpresa Uh portachiavi di Snorlax Portachiavi è una specie di sì portachiavi di Snorlax Bellino E tutto qui Andiamo ora con quello di Litten sperando che esca qualcosa di davvero bello Per davvero bello intendo qualcosa di tipo fuoco Ho aperto una breccia No, no, non ci credo, Popplio Popplio best starter, incredibile Mi dà paura, Popplio Eh non c'è più nient'altro, è una sorpresa sola, è giusto, è giusto così Accidenti ma Popplio Popplio è davvero il best starter ragazzi Ma è un magnete? Sì è un magnete, sì sì Questo è un portachiavi ma potrebbe anche fungere da magnete Vorrei provarlo ma non ho nessuna superficie Forse questo è il microfono Ecco l'ho aperto ma Non lo attacco al computer perché sennò davvero ragazzi il computer con le calamite si sminchia Quindi tenete le calamite più lontano possibile dai vostri computer, apparecchi elettronici No, qui non ha grappa A televisione? Tanto la televisione non si sminchia Eh sì, è una calamita ma appena appena attacco l'ho messa sul trapano giravide Tutto a fare questo Ah pensavo fosse un elastico, infatti dico perché ci sta un elastico qua dentro No, questo non è il calamita infatti No, niente Non capisco perché doppio Ma ovviamente questo non lo metto sulle chiavi perché sennò in pochi giorni si riduce ai minimi termini All'ogni modo, due sorprese abbastanza carine Poppio, il best starter, Snorlax, il best in Ciampastrada di sempre Chi ha giocato le prime generazioni lo sa Anche le seconde I remake Insomma ci siamo capiti Quindi questo era il secondo speciale di Pasqua, quello che vi pare Non so più neanche io che mi chiamarli però Si sa, il rito oramai è quello Aprire due o tre uova a Pasqua E poi dopo me le mangio Così ingrasso ancora di più Come sempre vi ricordo quindi che in descrizione Twitter e Instagram ci sono i link Andate a dare un'occhiata Instagram lo tengo sempre aggiornato Twitter anche appena esce il video su Twitter Pam, parte la notifica E ci avete anche lì il link per il video Nel caso siate su Twitter se vi interessa Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale Se ancora non foste iscritto Ci vediamo come sempre domani Con Detective Pikachu che mi è appena arrivato Bye bye Ciao